C'era una volta un'aquila che viveva in prossimità di un'alta rupe. Un giorno mentre volava vide un agnello, si avventò su di esso, lo rapì e tornò al nido per spartirlo con i suoi cuccioli. Un gracchio assistette alla scena e sbalordito la volle imitare. Disse tra sé e sé, se lo ha fatto l'aquila allora posso riuscirci anche io. Si mise in volo e cominciò a perlustrare la zona fino a quando non vide un montone. Ora farò come l'aquila disse, mi precipiterò su di lui, lo catturerò e lo porterò ai miei piccoli. Così fece ma una volta su di esso si accorse che era troppo grande per poterlo sollevare. Gli artigli rimasero impigliati nella lana e nonostante gli sforzi non riusciva più a liberarsi. Un pastore che passava di lì assistette alla scena ed intervenne per liberare il gracchio. Gli spuntò le ali e lo portò a casa. La sera, quando i figli tornarono, lo videro e meravigliati chiesero, papà dove hai catturato quest'uccello? Era aggrappato alla schiena di un montone, rispose il pastore. E tu l'hai liberato, esclamarono i figli. Grande papà! Sì, replicò il padre sorridendo. Che strano uccello però, che razza è? domandarono i figli. Per quanto ne so io, affermò il padre, è un gracchio, anche se lui pretende di essere un'aquila. Tutti e tre risero del povero uccello ed essendo ora di cena si misero a tavola. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che chi vuole competere con i più forti, non solo non ottiene alcun vantaggio, ma viene anche deriso per i suoi fallimenti. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Grazie. 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 Grazie.